Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica quando da ovest l'alta pressione cercherà di raggiungere le nostre regioni, quindi minor rischio di temporali. Di nuovo si alzerà il flusso nord atlantico. Andiamo a vedere la situazione quindi sull'Italia, nuvolosità e possiamo notare molte meno nuvole. Una giornata che sarà abbastanza bella, anche se, guardiamo zoom precipitazioni, ci saranno condizioni di bel tempo, ma durante il pomeriggio su Alpi, Prealpi e soprattutto la dorsale appenninica si formeranno nuovi locali rovesci a sfondo temporalesco. In sintesi quindi la giornata di domenica, una giornata di cieli serni o poco nuvolosi dappertutto, bel tempo, qualche piovasco o breve temporale però durante il pomeriggio sui monti. Temperature estive ma un caldo ben sopportabile, tutti i dettagli precisi, scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.